la rincorsa il fischio dell'arbitro caruso va e la mette dentro per il 2 a 0 al 27esimo minuto primo multietna 0 e vr 2 per andare caruso eccolo il fischio dell'arbitro tiro palo palla che sbatte addosso a vega e si insacca per il 3 a 0 gol un po' fortunoso anche se il tiro dell'attaccante era stato ottimo comunque 3 a 0 al 13esimo per le vr sul multietna e può avanzare si accentra se la mette sul destro tiro ed è il 4 a 0 il tondo tondo poker ancora subito dopo il gol sul calcio di munizione va a raddoppiare la doppietta personale di caduce al 14esimo grazie Grazie.